18 novembre 2018. Mancano 43 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno dello scorpione. La chiesa ricorda San Frediano di Lucca. L'onomastico. Oggi si festeggiano gli onomastici di Noè, Otto e Alda. Cognomi italiani. Il cognome di oggi è Cicogna. Dovrebbe derivare da soprannomi legati al fatto che una cicogna ne edificasse sulla casa del capostipite, oppure può aver avuto origine da toponimi. Cicogna è presente nella penisola a macchia di Leopardo, con un ceppo veneto, uno umbro e uno anche nel milanese. Cicognini è lombardo, così come Cigognini è proprio del milanese e dell'Odigiano. Accadde oggi. Il 18 novembre del 1971 il gruppo dei Led Zeppelin pubblica un album senza titolo, spesso chiamato Led Zeppelin IV, nel quale compaiono rock'n'roll, Stairway to Heaven e altri brani diventati dei classici dell'hard rock. Chi è nato oggi? Oggi facciamo gli auguri ad Amanda Lear, nata a Hong Kong, il 18 novembre 1939. La citazione da ricordare. Le donne non cercano gli uomini più belli, le donne cercano gli uomini che hanno avuto belle donne. Milan Kundera. Dice il saggio. Prima di scegliere una casa nuova, scegli il nuovo vicino. Proverbio arabo. Un consiglio al giorno. Volete preparare una colla atossica per fare giocare i bambini? Basterà far bollire per cinque minuti una tazza di farina con una quantità d'acqua sufficiente a rendere il composto cremoso.